Cominciamo con questa sfida che fra poco già perdevo. Sono praticamente quasi al bianco. Infatti, Eli mi dovrà fare degli obblighi per non toccare il bianco. Meno male che qua c'è il vetro, perché altrimenti tocco il bianco. Cioè, fra poco tocco già il bianco, non è possibile. Allora, non posso toccare la fontana. Eccoti. Bella. No, adesso fammi degli obblighi, sono anche più alta di te. Incredibile. Ok, entra qui dentro. Vabbè? Sì. Senza prendere niente dallo zaino. Dai! Oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. E scena, che scena? Stavo per toccare il bianco. Brava. No, ho dei vestiti addosso, che ci sono il bianco. Toglimeli subito. No, aspetta. Qualcosa è che non hai il bianco? Questo è il bianco? Sto toccando tutto il bianco. Non è vero. Ma io... Non è vero. Ok, allora. Ok, 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 ok. Aspetta. Ok, non c'è bianco. E un pochino nelle scarpe. Oh, no! Perché c'è il bianco in tutte le scarpe del mondo? Qua c'è il moto bianco. Ok, ok, i vestiti non valgono. Perché tanto ce l'hai anche in faccia, quindi... E mi tolgo la faccia. Perché non è possibile. Ecco. Ok. Mi metto così. Ok. Ce l'hai un po' anche nella maglia, però... Allora. Un attimo. Che è? Se mi trovo una tuta nera. Tutta blanca. Tutta blanca. No. Aiuto. No. Dai, questo... Eh... Metto a pausa il video per casamenti. Ah, mi avevo trovato così. Signore, è tutto nero. Se era bianco, avevo già perso. Allora. No, non tocchiamo il bianco. Allora. E so come faccio. Devi salire qua sopra. Qua sopra? Qua sopra. Dai, sono troppo fortunata. Vuoi qua? Dove? Allora. Siamo già... A due obblighi. A... Siamo già a due. E so il terzo e salire qui. Questa cosa l'ho fatta tantissime volte. Ok, siamo già a tre. Meglio a uno sette. No, questa è... Siamo solo a due. Non so se siamo a tre perché ti ho detto di andare nella fontana, ti ho detto di andare qua, e adesso ti ho detto di andare qua. Eh, ma questi sono collegati, quindi no, non vale. Ok. Dai, fai un altro obbligo. Allora. Stavo per toccarlo. Stavo per toccarlo. Allora. Sali qua sopra. Eh, ma è stato salire. Fammi anche andare in altri posti. Ok. Ecco, è impossibile. Toccato. Dai. Dammi un'altra possibilità. Un'altra. E boh. Però, eh dai, questo era troppo piccolo. Ah. Un'altra e boh mi. Ahà. Però... Ok, vai in strada. Arriva. Aspetta. Questo vale. No! Non. No, all'inizio ti avevo detto non. Ma sei scema. Ma sei scema. No, è questo. No, non vale, non vale. Ti avevo detto senza oggetti. Senza oggetti. Eh, ma è impossibile così. No, guardati a Torrow. Ve l'ho fatta pure semplice. Seguimilo con lo sguardo. No, ho capito. Ok. Sara! Eh? Vieni, guarda. No. Ah, vanno a me la mano. Non tocchiamolo. Non ti vedo, dove sei? Guarda, sono qui. Sono qui! Oh, allora sei scema. Girati! Ah, ho capito. Dai, sono tu. No! Dai! Beh, sono scema. Ok, adesso. Vieni qui. Eh, l'hai toccato. Dove? Qui. Ero andata qua. Eh, no, prima però l'hai fatto così. No, ma io ho fatto così. Mmh, dimmi di più. Dopo controllo di nuovo il video. Cosa? Dopo controllo il video. Non posso salire qua sopra. Siamo già cinque obblighi. Ok. Quindi me ne manco la... Non posso andare qua. Comunque uno è già andato. Ne hai solamente due. Ok, adesso. Entra. No, e c'è la luce gialla. L'hai toccato. C'è la luce gialla, però. C'è la luce gialla, ma è sempre bianco. Dai, valgono. No. È già la seconda volta che ti dico, che dico non vale. Ho un metodo che non è un oggetto. Aspetta. Lo skateboard. Aspetta, lo devo controllare. Guardi. Guarda, dai, non lo sto toccando. È solo lo skateboard. Cioè, però ti avevo sempre detto che non potevi prendere niente, però sai, no. Questo è troppo hard. Eh? Ma quello, non è lo zaino, quello è la sua macchina. Cosa? Non è lo zaino, queste sono macchine. Eh, ma insomma, senza prendere niente. E tu, tutta la sua. Eh, va bene. Allora. Devo entrare per forza? Vai in aeroporto, vai sull'aereo. Eh, sì, vabbè. Senza prendere niente. Devo cercare di... Questo è troppo... Di vincere. Di vincere. A tutti cosa? Dai, questo no, è tutto bianco. Eh? Ma ti prego, un salto non vale così tanto. Eh, sì, 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 sì. Ma poi anche l'interno è bianco, no? Ti prego. Ci deve riuscire. Ma dai, con gli oggetti, altrimenti è impossibile. Esatto. Esatto. Io ce l'avevo... Dai, no, questo non vale. Dai. Ti prego. Diciamo che per niente l'avevi già perso, perché tanto i miei obblighi, cioè, tu non puoi cambiarli. Facciamo così. E poi l'entri e l'hai perso. Faccio così. Se tocco tre volte il bianco ho perso. Eh, l'avevi già toccato due volte. Prima. Dai, no, dai, questo l'ho detto adesso. Ne ho altre tre. Però devo cercare sempre di non toccarlo, cioè. Vai. Provoci. Veloce. Dai, l'ho toccato una volta. Una volta. Eh, no. Due volte. Tre volte. No, aspetta. Dovrei, dovrei, eh, dovrei essere così. Mi dispiace. No, non sono tre volte. Una volta. Siamo nella parte nera. Non è vero, guarda, lo sta toccando. Sto saltando. No, due volte. Dai, però. Una volta l'ho toccato. Sono due. Eh, vabbè. Mi hai fatto così. Però non è fare troppo difficili. Eh, allora, due volte sono già. A quanti siamo di obblighi? Siamo a sei. Se dico giusto. Però. Eh, ok. Poi. Adesso. Devi. Andare in piscina dal trampolino. Credo potrebbe essere semplice. Uno. Uno. Tre. Provo, eh. Quattro. E non mi dare dei secondi, perché. Non toccare il fondo. Non posso toccare il fondo della piscina. Cavolo. Ok. Ok. Questo dovrebbe essere semplice. Non è giusto qua. Non l'ho toccata. Si vede dal video. Si vede dal video. Mi sono anche spostata addosso. Che schifo. Lo so. Dai. Eh, sì. Non mi puoi abbracciare. Quindi se ti tocco, è la fine per me. Ok. Sali qui sopra. Salgo qua sopra. Sali. Sali. Sali di sopra. Stai scherzando. No. Prendere quel lavoro. Prendi il lavoro e il bagnino. Il lavoro. Tocco la parte blu. Anzi, nera, volevo dire. Prego l'unghia. Ecco. Non sto toccando il bianco. Ma ce l'hai in testa adesso. Eh, ma è un po' staccato. È un po' staccato dalla testa. E poi comunque starei tocc... Se ce l'avessi in testa attaccato, starei toccando la parte rossa. Sali sull'altalena. Vai un attimo tu. Sali sull'altalena. Eh, ma vai prima tu. No. Io non ci posso andare. Dai. Io non ci posso andare. Perché? Perché io non sto facendo la sfida. E gli obbligazioni miei. Non tu hai miei. Quindi adesso tu vai. Ok, ma sali un attimo lì sopra. Solo una volta. No. Tu non devi... Tu no. Tu puoi toccare... Ho capito il tuo piano, no. E qual è il mio piano? Vedere se tocco il bianco. Tu lo sai? Salici. Tu lo sai? Boh. No, io non ci sono mai salita sulla padella. Da poco mi ricordo. Quindi... Oh, l'ha toccato! Non è... Aspetta. Non è possibile. Aspetta, è un po' strano. Ah, mi ha toccato anche cadendo! Non è possibile. No. Non lo sto toccando! Sì, ma... Quando sei sceso è toccato qua e ti ho visto chiaramente. Scusa, ma devo rivedere il video. Non è possibile! Eccola! Hai ragione. Ho perso! Hai perso. Però mi sono accorta una cosa. Di cosa? Le mie scarpe sono nere. Quindi non... Non è che sto toccando! Proprio tutto il bianco. No! Non vale! Vale comunque! E va bene, ho perso! Aha! Adesso... Adesso facciamo... A me. Adesso facciamo il secondo video. Per me. No! Dobbiamo arrivare... Allora, una cosa tristissima che proprio nessuno sarà così tristissima. Se arriviamo... Allora... Se questo video raggiunge... E due like? No! Cinque visualizzazioni! In... Almeno... Dieci minuti... Faremo... Quello di Eli. Ok! Ci sto! Ciao! 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 Ciao!